ok siamo qua produzione pronta madonna quante ciò 19.500 di merce senza fare niente sta aumentando il prezzo quindi dovrebbe essere sui 100.000 questo questo locale una volta pieno dobbiamo vendere queste qui vediamo come funziona la vendita vendi merce vendi a 19.500 qua o allo santos a 29.250 vendiamo allo santos 29.000 ci siete vai subito parte subito è lì ci fregano cose c'è gente online subito guarda cosa dice quello leggi vi faccio in descrizione sali sul furcone ok raggiunge un punto di consegna te vieni da me che mi devi difendere da tutti quelli che mi attacca se vuoi ti do anche il vulcan tanto non lo uso più io non lo usi più? lo dai a me? si ok no ma non lo voglio allora metto nell'armadietto tengo solo per fare delle prove e basta allora potrebbero anche attaccarmi eh quindi vieni subito aiutare appena poi da ora siamo online ci vedono tutti abbiamo anche il tempo? si ora se mi tirano delle bazucate non salto sul tonale ci vogliono 6 o 7 colpi 5 o 6 colpi non lo so che prima ne ho attaccato uno io ho tirato 4 bazucate niente con l'elicottero ti vieni da me intanto dove sta andando aiuto ok ma ci sono delle persone da ammazzare? non lo so ora vediamo quando ci avviciniamo tanto con molta cautela avviciniamoci furgoncino delle poste per non dare nell'occhio dice raggiungi un punto di consegna se sto facendo più veloce che posso pensate con l'osieris basta che arrivi prima della fine della missione è qua ok io ci sono eh puoi vedere dov'è? ok arrivo guarda un po' se non c'è nessuno la in vicino a noi 8 e uno di livello 58 aspetta usa il giovesse in blu che si è stata attaccato così qui sono arrivato da cos'ha? ok ho cambiato joystick sai il dia a tirare la polizia a tutto rango ah che spettacolo? acceleratore che rimane incantato lo so però non puoi accelerare a manetti eh ci vorrebbe qualcosa del genere nei giochi che puoi bloccare l'acceleratore è uscito un joystick nuovo col filo per una playstation 4 chissà che roba dicono che ha un'alta tecnologia di sensibilità ma oh perché sei uscito abbandono del membro ha abbandonato la sessione e non lavora più bene per te davvero? sì c'è quello qua? e lì si è abbandonato la sessione ma l'hai abbandonato da te no io ci sono a te guarda un po' abbandona il presidente guarda un po' te se c'è gente da te vedete se sei da solo sei solo sei scollegata a te sei così la wireless hai fatto di rete oggi? no hai fatto o no? di verità no mi pare che l'avevi fatto aveva letto 32 a me non lo fare perché tanto non serve che rientra nella mia partita allora che rientri lì dove sei posso io devo mandare in vita va oh holy crap i'll see you later at that thing homie you pathetic little nobody che città è questa? alta los santos ma dici l'aspetto 100 dollari dai a 100 dollari si però dobbiamo fare 100 dollari come se una missione c'èo dobbiamo fare una missione c'èo guarda quanto guadagno se non mi guadagnai più così ma che salita mi fa fare con questo foglio mi pagierebbe anche una a piedi che una a piedi mi pagierebbe e le fatte lo strano che devo darlo? premi dai lo lascio proprio così davanti a casa ok altre quattro consegne così dai sono vicino a te ti mi devi difendere mentre faccio le consegne eh vengo a prendere ci sono vicino ok, non voglio prendere in discesa vado meglio cazzo ma ecco perchè minchia prima ho fatto una curva ho lasciato l'acceleratore no? ho detto ma che cazzo di curva mi stai facendo? accelerava e non capivo il motivo perchè rimane accelerato dai vieni dove sei? aspetta dai vieni aspetta ho solo un po' la macchia a te dai ci esci con la macchia e vedi dove sono io col frugone devi seguirti e non mi posso sparare però non c'è niente nessuno a sparare non c'è niente non c'è niente buongiorno servo a voi? ah ah ganzo io ho amico permesso devo consegnare ho ordini da fare stema mi devi invitare? invitami a cosa al mostrash club invitami e ormai non posso durante la missione non posso devo finire questo ormai vabbè allora ti spingo dietro no mi puoi difendere se qui sono io se mi attacca ti spingo e ti spingo eh sono lento vabbè dai prova vediamo se hai velocità abbastanza sì sì aumenta la velocità minchia ora no in curva in curva no in curva no che mi fai perdere tempo spingi spingi ora muovi aspetta fai passare vai ora vai veloce che in salita non ce la faccio stami incollato alle chiappe spingimi i furgoni lì bravo grande cri abbiamo trovato un modo che questo cioè uno potrebbe avere un furgone che di solito è difficile fare in tempo una missione dici cacchio come faccio a farla andare più veloce non puoi si attacca a un tuo amico da dietro ti spingi che strada impervia questo è la prossima volta il lavoro ti faccio fare a te no no io devo gestire non devo fare le consegne se vuoi guadagnare soldi sì se no io alla fine pago i lavoratori che lavorate per me capito non che mi rompete le palle mi buttate di sotto la tagliata si si ho fatto prima adesso ok guarda guarda oh sempre mi cerchio eh ti vado subito a chi c'è la consegna oddio poi io ti potrei anche rubare la consegna se no non mi pare niente ma se smetti a scemo ma sei tu fatti di fettino ammazza spingimi il fulgione ora giro a sinistra di qua dove va si è incastrato il pro vado dritti qua basterebbe buttarsi di sotto proviamo a andare oltre il monte andiamo a sinistra qui a sinistra a sinistra sul monte muoviti mi serve una mano io non ce la faccio grande vai spingi 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 qui no qui no aiutami sta fermando bravo sei un grande cioè come faccio senza i dati di lui? possibile noi passiamo per il campo per fargli consegna oggi io sarei unissimo giallo veloce poi ti attacco col caldo vero e poi ti buttava la consegna infatti dovrebbe comprarsi un caldo ecco ci fra dentro ma questo da fare qui ci dovessi comprare un cargob ci serve anche per il glitch magari bung ciò che dice non lo facciamo u occhio con le conseguenze vai a manetta manetta se a mano un dio per la più belli un problema non farà più notizie anche il mondo si esplode di gazzissimo il mio bisaccio a rettare consegna in corso sono un pazzo delle consegne sono fatta adesso lo vedo malissimo ma dopo ti faccio vedere com'è messa la mia macchina lo devo prendere anzi lo si esso arrivo guarda la mia macchina è come è ridotta aspetta ora consiglio il pacco e poi guardo ecco rispetta che ti spingo eccomi segna speciale ma mi sto cretino levati c'ho il tempo non lo posso neanche a posta per andare qua no guarda guarda non so camminare neanche spesso puoi provare queste cose un bel parkour a piedi dai levati sto perdendo tempo non so se capito non mi devo rendere conto spingi la macchina il furgone si è avanti tu devi mi sembra quella macchina dai voglio superare ma sei pennata non ci credo come ho fatto spingi da dietro non di lato ma io io ecco ti immagini fare una gara stante con un fulgone vincere io sicuro voglio fare quelle gare stante con i veicoli speciali beh ovviamente la farà la rockstar guardiamo quanto ho guadagnato sono riuscito a consegnare l'erba guadagno 29.834 ma si dai sali con me se ti fermi sali con me muoviti aspetta aprile no i usbate in tine voi te faccia no no rompre dimma che a sfondat e buonopatora esceza Musica